L'affidamento del servizio sanitario di emergenza per il sistema 118 del territorio della provincia salernitana di competenza dell'ASL continua a far discutere. Chiusa la gara, sono stati aggiudicati i lotti del servizio, al momento affidati ad una graduatoria provvisoria, che sulla base dei ricorsi annunciati potrebbe avere tempi più lunghi del previsto per l'aggiudicazione definitiva. E la questione punteggio ad essere in discussione nel bando erano considerate in primis l'anzianità di servizio e di iscrizione all'albo regionale, la territorialità e l'anzianità di convenzione con l'ASL, parametri che hanno portato all'esclusione di alcune associazioni. Tra queste anche l'Humanitas di Salerno, che ha annunciato però un ricorso. L'associazione preseduta da Roberto Schiavone si è vista attribuire un punteggio di 56,9, mentre gli altri oltre 70. 15 lotti assegnati per il servizio del 118 in provincia di Salerno. La maggior parte delle postazioni, delle varie delegazioni, sono andate alla Croce Rossa. Per la città di Salerno e Pietri sul mare, aggiudicate dalla Croce Rossa e dalla Croce Bianca di Salerno, saranno disponibili otto ambulanze e due automediche. In questo momento c'è una gara che è terminata, sono state pubblicate delle graduatorie, ma è ancora un attimo tutto ufficioso. Quando ci sarà la delibera ufficiale, allora si partirà. Come diceva lei, sì, siamo varie associazioni, qualcuna è rimasta fuori perché non rispecchiava quei protocolli richiesti dal disciplinare per la partecipazione alla gara. Protocolli di anzianità, di garanzia, tutta una serie di protocolli che noi abbiamo rispettato. D'altronde l'associazione, parlo per la mia associazione, è sul territorio da 20 anni e noi siamo pronti a intervenire e a cominciare nel momento in cui poi ci sarà questa ufficialità. C'è un po' di caos, c'è un po' di confusione, ma noi siamo fiduciosi nell'ASL che sta già facendo, tra l'altro, controlli già da tempo. Noi stessi ne siamo stati oggetto più e più volte, uscendone sempre positivamente, però voglio dire che questo è tutto a vantaggio dei cittadini perché si vuole cercare, l'ASL sta cercando di migliorare sempre più il servizio per i cittadini, per non abbandonarli. Quindi noi come associazione, così come le altre che sono in gara, siamo pronti. Abbiamo un pacchetto ambulanze pronto anche di ambulanze nuove, ne abbiamo già ordinate una decina. Questa è la sede operativa, infatti, è automedica. Quindi stiamo cercando di anche noi migliorare il servizio perché, ripeto, è una cosa importante proprio per i cittadini, al di là di tutto il resto. L'associazione, appena ci sarà l'ok, partirà. Nel frattempo chi è rimasto fuori, ripeto, avrà problemi di punteggio perché c'è una commissione, tra l'altro di spessore, che ha giudicato e quindi sarà la commissione a rispondere. Ma io penso che sia stato fatto tutto nel migliore dei modi possibili.